Ecco qui siamo sulla stradina principale di Numana. Ecco qui siamo arrivati sulla piazzetta dove c'è questa gelateria famosissima che è la gelateria Morelli. Ecco qui siamo arrivati sulla piazzetta. Ecco qui siamo arrivati sulla piazzetta. Ecco qui siamo di fronte all'hotel Eden Gigli. Ecco qui gode di una bellissima vista sul conero. Ecco qui gode. Ecco da questo punto spettacolare vediamo qui sotto la spiaggetta. Ecco qui gode. Ecco da quest'altra parte abbiamo il porticciolo di Numana e poi si incominciano a intravedere tutte le varie spiagge come la spiaggia di Marcelli. In lontananza si nota l'alto palazzo di Porto Recanati sulla punta. Ecco qui gode. Ecco qui gode. Grazie.